Ciao a tutti, sono Maurizio e anche io aderisco alla campagna Io leggo a casa per Montesarchio responsabile. Ascoltiamo un po' d'argento. Rabbì, che cosa pensi del denaro? chiese un giovane al maestro. Guarda dalla finestra, disse il maestro. Cosa vedi? Vedo una donna con un bambino, una carrozza trainata da due cavalli e un contadino che va al mercato. Bene, e adesso guarda nello specchio. Che cosa vedi? Che cosa vuoi che veda, rabbì? Me stesso, naturalmente. Ora pensa, la finestra è fatta di vetro e anche lo specchio è fatto di vetro. Basta un sottilissimo strato d'argento sul vetro e l'uomo vede solo più se stesso. Siamo circondati da persone che hanno trasformato in specchi le loro finestre, credono di guardare fuori e continuano a contemplare se stessi, non permettere che la finestra del tuo cuore diventi uno specchio.